ciao a tutti amici ecco devo vedere qua ciao a tutti amici volevo fare questo vlog o meglio questo video viaggio non vi dico dove sto andando perchè voglio lasciare un alone di mistero scusate per le vibrazioni ma il cellulare è attaccato a un robot cinese un portacellulare cinese e vibra tutto niente sono in macchina per un po' vi voglio non vi voglio raccontare solo di musica elettronica come ormai avete capito nel canale cacchio perchè i tergicristalli no fa ridere perchè c'è una giornata bellissima oggi ma i tergicristalli stavano andando adesso li ho spenti sarebbe pazzesco se faccio un incidente in diretta lo metto su youtube sempre se sarà ancora vivo facciamo il boom di visualizzazioni incidente in diretta dj jacopo channel dj jacopo muore in un incidente sarebbe bellissimo infatti facciamo così adesso nel viaggio posso stilare il mio testamento tipo il mio canale di youtube che ce l'ho aperto una settimana fa ma già faccio i big money infatti mi è arrivato il bonifico da parte di google questa settimana ho guadagnato ho guadagnato dai 1500 ai 2000 euro e il canale di youtube lo lascio dai al mio amico ricky e vi metto in descrizione il canale perchè anche lui è appassionato di musica elettronica e sarà il mio erede poi lo rinomina ricky audax channel però vi lascio in buone mani e poi niente le altre cose deciderò in seguito non so darò tutto in beneficenza ma si chissà che cazzo esce da sto video secondo me sarà una merda perchè non è difficile non è scusate non è facile parlare di cose sensate mentre si guida c'è un conto se fai guidare a un tuo amico e spari cazzate però guidare essere concentrato sulla strada e dire anche cose sensate che non mi riesce tanto bene magari perchè è il primo vlog magari al centesimo sarò più spigliato sarò più sciolto però sempre se ci arriverò al centesimo beh ragazzi il vlog lo fanno cani e porci volete che non lo faccio io eh tra l'altro non so se vedete perchè c'è l'ombra non lo so devo assolutamente tagliarmi i capelli ah tra l'altro è vero voi non mi avete mai visto non avete mai visto la mia pettinatura perchè ho sempre indossato il ho sempre indossato il cappello che è una cosa ambivalente ambivalente penso sia una parola buttata a caso però la volevo dire l'ho messo sia per darmi un un tono una caratteristica quel cappello l'ho comprato il 7 gennaio a Milano insieme al mio amico Cristian infatti me l'ha me l'ha scelto lui e lo ringrazio ancora e quindi l'ho messo sia per dare diciamo una caratteristica una mia caratteristica ma anche perchè non avevo voglia di farmi i capelli il mio ciuffo non sta più in piedi quindi adesso fine settimana mi vado a tagliare i capelli e da settimana prossima nei nuovi video vedrete vedrete la mia la mia nuova capigliatura il prossimo video lo registrerò assieme al citato prima Riccardo mio amico Riccardo con la GoPro molto probabilmente almeno voglio vedere la differenza tra iPhone e GoPro perchè allora cosa non mi piace dei miei video prima di tutto io perchè non sono capace no comunque non mi piace non mi piacciono due cose uno è la luce è un po' è un po' smorta però ragazzi ho quella stanza e poi anche l'audio è un po' è un po' basso e si sente un po' di eco eccetera quindi volevo provare con la GoPro come si sente e se si sente bene se i video iniziano a piacere magari mi mi aggiorno prendendo una GoPro sta tutto a voi fedeli fan di DJ Jacopo più mi seguite e più spendo per voi come ricordiamo ricordo che in questa settimana ho guadagnato grazie a YouTube tra i 1500 e i 2000 euro quindi posso comprare delle belle cose cazzo stavo pensando qua c'è l'autovelox invece per fortuna no anche perché c'è oltre incidenti in diretta si potrebbe fare autovelox in diretta sarebbe un bel video ma magari nei prossimi video farò eh ci sta non parlo più di musica elettronica ma parlo di come farmi del male sia fisico che economico mentale ci sta sono curioso anche di sentire come si sente l'audio di questo video tra l'altro no la vera la vera motivazione per il quale ho fatto sto video sapete qual è? è mettere è mettere la base dei vlog cioè io quando sento la base dei vlog quella quella che state ascoltando in sottofondo se la metto no adesso vediamo comunque un pezzettino la voglio mettere cioè allora puoi fare il vlog più bello del mondo ma se non mi metti questa base non sei nessuno e non fai più no ma io penso che altro che How Deep Is Your Love di Calvin Harris la vera hit che poi è una hit che che poi è una hit che vale sempre cioè non è che ti stanchi ti stufi la vera hit peccato che non si inclassifica perché non è a pagamento è questa ve lo dice DJ Jacopo in persona buon ragazzi è giunta l'ora di chiudere il video non vi aspettate una chiusa spettacolare perché non non ho né il tempo di pensare né le possibilità di farle cacchio a Radio DJ stanno parlando di guardare sotto la Barbie sposando sotto le mutande beh voi non l'avete mai fatto io si lo ammetto comunque stavo dicendo stavo per incidentare stavo dicendo voglio fare una chiusa e la faccio così ciao a tutti buona buona continuazione e comunque al prossimo video di DJ Jacopo Channel ciao